Le elezioni regionali dell'Abruzzo tengono banco anche se manca ancora un anno, ma il centrosinistra sta filando le armi per contrapporsi a Marco Marsilio. Qual è il suo uomo? Sicuramente, indubbiamente, Silvio Paolucci, l'uomo che unisce tutte le doti, le virtù, le caratteristiche, tutto quello che un candidato a Presidente della Regione dovrebbe avere. È stato segretario regionale, conosce ogni millimetro, ogni metro quadro dell'Abruzzo, delle città abruzzesi, delle problematiche delle nostre città, dei bisogni del cittadino. È stato assessore regionale a più deleghe, a deleghe importanti e poi consigliere capogruppo del Consiglio regionale in quest'ultima legislatura. Quindi è la persona di esperienza, è la persona che ha la storia, è la persona che ha la giusta competenza per affrontare una campagna elettorale importante, ma soprattutto per dire all'Abruzzo che c'è un abruzzese che può rispondere ai bisogni del lavoro, della transizione ecologica, delle infrastrutture, dello sviluppo, delle portualità, di tutto ciò di cui c'è bisogno. Ospica un campo largo? Indubbiamente sì. Io sono per il campo largo, sono per il civismo, sono per il Movimento 5 Stelle unito al PD, sono perché anche quei partiti come il cosiddetto Terzo Polo, Calenda, Italia Viva, attuino e avviano un dialogo con il Partito Democratico e con i 5 Stelle che sia utile all'Italia e alla Regione. L'Italia ha bisogno del centro-sinistra, ha bisogno di noi, l'Abruzzo ha bisogno del Partito Democratico.